E' a sfatare la falsa ideologia che il purlo sangue arabo sia un cavallo indomabile, immontabile e non adatto a tutti, avremo Matilda e Amelia che con il loro compagno di avventura, il purlo sangue arabo Dream, si contenderanno la sua misizia, eseguendo figure di maneggio e danze spumeggianti, contornata dalle eleganti moenze di altri due arabi, Lancillotto ed Entos, che incorniceranno questo speciale intrattenimento. Signore e signori, Dream, Matilde e Amelia. Grazie a tutti. 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 e facciamo un applauso a Matilde e Amelia. a dimostrazione che il cavallo arabo non è un cavallo difficile e ritengo che per delle giovani amazzoni, come in questo caso sia la dimensione più giusta per loro. ed eccole a tutti. ed eccole Matilde e Amelia insieme al loro amico Dream. bravissime. Grazie mille. anche ringrazie a tutti. grazie a tutti. che con semplicità ed eleganza che con semplicità ed eleganza riesce sempre a far uscire da questi cavalli il meglio. grazie a tutti. e la nostra mattinata continua con la morfologia quindi con la categoria numero 9, stallone di 4, 5 e 6 anni che invito a prepararsi nel pre-ring.